Buongiorno a tutti, Maria Grazia Gagliani, Career Product Leader. Sara De Rocco, Chief Commercial Officer, Marsh McLennan Italia. Bene, parleremo di Total Reward and Wellbeing. E anche noi lo faremo grazie alla testimonianza di un caso aziendale, quindi di ATM, ma che tra l'altro Luca presenterà tra breve. Ma prima di lasciare spazio ad ATM, volevamo condividere con voi, con Sara, alcune riflessioni, alcuni trend in ambito compensation e benefit, quindi relativi al mercato del lavoro. Anch'io, devo dire, come Alessandro, mi sento confortata perché molti dei temi che citeremo sono stati citati dalle testimonianze precedenti. Partirei da una slide che sintetizza alcune delle complessità che le aziende stanno vivendo. E tra queste cito l'inflazione e il talent shortage, su cui ritornerò tra breve, a cui aggiungerei una dimensione un pochino più interna, che riguarda poi la dimensione people. Perché, come dicevamo anche stamattina, post pandemia, l'approccio delle persone al mondo del lavoro è cambiato. E se fino a non molto tempo fa le persone accettavano di lavorare duramente, di sacrificarsi per arrivare a fine carriera a un benessere, adesso il benessere, che non è soltanto finanziario, ma anche emotivo, fisico, mentale, è un requisito fondamentale della professione che le persone svolgono in questo momento. E questo non può essere ignorato. Venendo all'inflazione, e se guardiamo la dinamica salariale degli ultimi dieci anni, tendenzialmente è flat, perché almeno in Italia il costo della vita non è mai stato, come dire, un indicatore su cui poi le aziende costruivano il budget per la revisione salariale. Nel 2022 l'inflazione è arrivata all'8,7% e tutti noi abbiamo assistito, abbiamo subito una perdita del potere d'acquisto di 6 punti percentuali. A fronte di questo scenario inflattivo, le aziende nel 2023 hanno aumentato i salari, il dato medio si è attistato intorno al 4%, facendo riferimento ad alcuni nostri peers europei, pensando Germania, Francia e Spagna, il dato è allineato, troviamo un dato un pochino più elevato in Olanda, un 4,5%, e in Inghilterra un 5%. Ritornando in Italia, in merito ai settori, tutti i dati si sono comunque avvicinati tra un 3,7% e un 4,3%, ma il fenomeno di crescita l'abbiamo registrato cross industry. Il punto è che l'inflazione è stimata sull'anno nel 2023 il 6%, da qui emergono due considerazioni. La prima è che la manovra non ha comunque compensato questo divario e quindi l'inflazione. La seconda, sulla base poi di quello che è emerso dalla nostra indagine, la Total Remuneration Survey, risulta che la manovra salariale quest'anno sia stata un po' meno selettiva sulle popolazioni più basse, quindi professional e impiegati. Questo che cosa vuol dire? Che la perdita del potere d'acquisto è stato uno dei driver e probabilmente ha limitato l'efficacia della politica meritocratica. E questo in uno scenario, in un mercato del lavoro estremamente dinamico, perché da un lato il 77% a livello global delle aziende lamenta grosse difficoltà a trovare talenti, e questo dato si è quasi raddoppiato rispetto al 2015. Dall'altro lato assistiamo a tassi di turnover volontario crescente. Il tema è, e tra l'altro questi sono dati 2022, quindi mi aspetto che nel 2023 i dati possano essere anche più elevati. Il tema è che le persone vanno via, e la motivazione principale per cui le persone vanno via è il salario, nel 67% dei casi, seguita da motivazioni personali, e infine da motivazioni legate allo stress. Ma dato a mio avviso ancora più interessante, che a fine 2022 abbiamo fatto una survey a livello europeo, e tra le aziende che hanno deciso di intervenire sui salari, per contrastare il fenomeno del turnover, hanno visto un beneficio solo nel 13% dei casi. Quindi, per dire quello che diceva prima il collega di Autostrada, è che la retribuzione non è l'unica leva, e che oggi, più che in passato, l'imperativo è quello di lavorare in un'ottica di Total Reward Strategy, quindi di Employee Value Proposition. E a nostro avviso è necessario però che questa strategia di Total Reward sia distintiva, ossia che renda differenziante lavorare un'azienda piuttosto che un'altra, quindi ancorata anche al sistema valoreale, alla cultura, che sia credibile, per riprendere una parola che diceva prima Cristiana. Diversificata, quindi variegata, che offra un mix di componenti, che sia ingaggiante, che quindi parta dall'ascolto delle persone, perché i bisogni sono molteplici, e la Total Reward deve rispondere non solo a bisogni di sicurezza, ma anche bisogni di crescita, di appartenenza, di benessere, e quindi è necessario coinvolgere le persone in un approccio di co-design. Quarto, segmentata, noi citavamo prima, è necessario fare tesoro di questi input per provare a individuare dei cluster e differenziare l'offering. Ci rendiamo conto che questo, da un punto di vista gestionale, è complicato, ma non solo riteniamo che possa essere più efficace, perché l'approccio one size fits all non funziona più, ma forse potrebbe riservare anche dei margini di efficienza, perché è una strategia costruita sui veri driver dell'engagement. E infine flessibile. la flessibilità è la seconda motivazione per cui le persone scelgono un'azienda, e la sfida sarà quella di, come dire, integrarla all'interno di questo offering, che poi dovrà essere declinata lungo tutto il percorso del dipendente all'interno dell'organizzazione. E a questo punto, Sara, mi rivolgo a te, ma i benefit o il welfare, che tipo di ruolo potranno giocare all'interno, insomma, di questo scenario? Grazie Maria, grazie, e anche da parte mia ringrazio tutti gli speaker che mi hanno preceduto, perché direi che da chiunque abbia parlato questa mattina la parola welfare, well-being, benessere delle persone, è stata citata. E questo è assolutamente vero. Qui vi abbiamo riporato un po' di dati dalle nostre ricerche. Ora, a noi piace partire proprio da qua per cercare di aiutarvi a costruire le strategie. Questa è una ricerca lanciata qualche mese fa, quindi direi molto recente, dati italiani, la ricerca si intitola Health on Demand e ci dice, quel dato in alto a sinistra, che tre persone su quattro non lascerebbero un'azienda che gli concede, che concede loro un piano di benefit strutturato. Quindi qua iniziamo a vedere per la prima volta un trend molto importante proprio legato al valore dei benefit. Mauro Ghilardi citava prima un po' il motto degli anni 90, we don't compete on benefit. Ecco che invece forse è proprio qua che giochiamo la differenza sulla value proposition che diamo alle nostre persone. E ancora di più poi ci sono tutta una serie di dati che ci mettono nelle condizioni di considerare l'investimento in benefit. Oggi un investimento di lunga durata e soprattutto di grande ritorno sull'investimento. ancora dati una persona su tre ci dice che rinuncerebbe quindi farebbe un salary sacrifice proprio a beneficio e a vantaggio di piani soprattutto su quella che è un po' la protezione chiave delle persone quindi piani sanitari o programmi di well-being più ricchi e anche ora questo è un dato su cui dobbiamo riflettere. Ancora più importante in un contesto come quello in cui viviamo tutti i giorni per cui si parla di policrisi si parla di permacrisi abbiamo un sistema sanitario pubblico che è particolarmente incerto in difficoltà abbiamo anche il tema dell'invecchiamento della popolazione quindi tutto quello che ne compete di malattie croniche ma abbiamo anche da gestire le nuove generazioni o comunque quattro o addirittura cinque generazioni che stanno e convivono all'interno di un ecosistema aziendale e che hanno nei confronti della salute del benessere di questi valori fondanti delle aspettative molto diverse dei bisogni molto diversi che ancora oggi forse le nostre aziende non sono così pronte a raccoglierli e a comprenderli e poi di conseguenza traslarli sui piani benefit ma la strada è ancora lunga quindi tutte le aziende ci dicono quanto è importante fare welfare well-being di qualità moltissimi di voi stanno investendo nell'arricchimento dei piani in maniera importante ma il protection gap quindi quell'investimento nei benefit che vanno proprio a tutelare i momenti peculiari della vita delle persone quindi qua parliamo di piani legati agli infortuni alla salute di lungo termine alla polizia sanitaria all'assicurazione sulla vita quindi tutto quello che garantisce a una persona anche di far fronte a momenti particolarmente difficili della propria vita e lasciare magari che il proprio nucleo familiare possa continuare ad avere e mantenere un certo tenore di vita anche se succedesse qualche cosa ecco che i dati ci dicono che siamo ancora un po' lontani dall'obiettivo quindi qua avete una prospettiva tra personale a alto e basso reddito quindi sopra e sotto la mediana dei salari aziendali l'accesso a questi core benefit anche per diciamo le classi con un salario sopra la mediana parliamo del 22% della popolazione quindi c'è ancora molto da fare c'è ancora molto investimento da attivare ma è forse oggi proprio il momento per farlo con una strategia chiara di fondo quindi abbiamo investito tanto abbiamo creato dei sostrati di offerta benefit anche molto ricchi ma che oggi sono complessi e che le nostre persone probabilmente non percepiscono e non valorizzano fino in fondo quindi ritorno un po' alle parole di Maria Grazia rispetto all'employ value proposition quindi dobbiamo essere in grado di avere una strategia sui benefit che sia flessibile più personalizzata possibile e innestare tutta una serie di attività legati alla valorizzazione dell'offerta e alla comunicazione quindi i nostri dipendenti anche in questo caso sono e devono essere quasi come i nostri clienti finali e con questo passo la parola a Luca grazie Sara in questo scenario che le colleghe ci hanno fatto vedere questa ultima testimonianza aziendale prima del pranzo insieme a Roberta Segalini che che invito a salire ci sediamo ci sediamo vi raccontiamo un'azienda che per noi milanesi è un po' scontata forse è un po' la bread and butter no? perché perché ATM è il transotto casa perché perché i mezzi sono in orario perché banalmente per fortuna dai sì perché banalmente non prendono fuoco citazione a caso citazione a caso però in realtà questa è un'azienda che così scontata non è anzi io conoscendola un po' meglio ho proprio chiesto a Roberta di venirci a raccontare perché ATM è molto altro anche e tra l'altro prima veniva citato un tema dell'impegno delle aziende nei confronti dei propri clienti delle comunità ecco ATM poi ce lo dirà bene Roberta trasporta qualche milione di passeggeri ogni giorno quindi il senso della responsabilità non solo come datore di lavoro ma nei confronti dei propri clienti qui è un elemento fondamentale Roberta partiamo e partiamo con un video forse ti chiedo alla regia di grazie mille grazie mille addirittura buongiorno a tutti innanzitutto grandissimo onore essere qua oggi e soprattutto partire da ATM infatti Luca quando abbiamo iniziato a pensare a cosa vogliamo raccontare abbiamo deciso anche di rubare qualche minuto del vostro tempo per raccontare due cose di ATM che spesso non si vedono quindi da cittadino da cittadino noi vediamo i bus i tram le metropolitane vediamo i miei colleghi quindi in divisa presenti su Milano come security come OS in stazione ma non si vede una parte di ATM e oggi per raccontarvi il viaggio che stiamo facendo con Mercer era importante rappresentarvelo innanzitutto ATM Milano certo ovviamente ma ATM anche Copenaghen dal 2008 e Salonicco dal 2024 abbiamo appena vinto una gara quindi ATM attiva a livello internazionale nel mondo dell'operation and maintenance questo è il nostro mestiere quello che ci fa brillare gli occhi ci fa appassionare ogni mattino quando si attacca al primo turno alle 4 e mezza però ATM non è soltanto operation and maintenance noi abbiamo tutta una serie di elementi all'interno della nostra value chain quindi l'ingegneria la manutenzione che è molto presente ed è una delle aree che ho scoperto in modo incredibile non viene percepita all'esterno e ci abbiamo fatto un business e questa è la cosa interessante di ATM magari appunto da cittadini e da clienti quindi ho qua fantastici 200 plus clienti oggi quindi devo assolutamente essere attenta vedete la parte di operations e maintenance su Milano ma non vedete Copenaghen non vedete Salonicco e non vedete anche il lavoro che stiamo facendo per far crescere il sistema Italia di trasporto pubblico locale noi vendiamo le nostre competenze di ingegneria di manutenzione stiamo aiutando anche ATAC quindi dove purtroppo bruciavano i bus ora sempre di meno per fortuna a fare il passaggio alla full green di conseguenza al full electric anche in ATAC come lo stiamo facendo noi quindi ATM tanto di più rispetto alla nostra fantastica tramcarelli che noi vediamo tutti i giorni in centro Milano e anche lato people una complessità che non è soltanto quella del personale del personale viaggiante quindi 11.000 persone se mettiamo insieme l'Italia Copenaghen e la futura Salonicco l'80% delle quali blue collar ma lo dicevo prima ho un ex collega io vengo dalla fabbrica e quando lavorando in fabbrica pensi vabbè ok la gestione dei blue collar l'ho fatta insomma cosa sarà mai in realtà più della metà delle nostre persone non ha un luogo fisico dove stare perché sono colleghi che prendono servizio e lasciano servizio in giro per le città perché prendono servizio in metropolitana e finiscono il loro turno se sono macchinisti sono conducenti di bus che prendono servizio lungo le strade di Milano e lì finiscono il loro servizio in deposito non passano anche se noi abbiamo più di 20 depositi soltanto su Milano quindi una complessità poi nel interloquire con i nostri colleghi nel comunicare anche quello che si sviluppa decisamente più complesso che una fabbrica altri numeri lato gender ancora non siamo messi bene forse questo non stupisce però in realtà è un target estremamente importante nel concetto della equity anche dell'inclusione e da ultimo invece un tasso di attrition quindi di turnover facevi vedere Maria Grazia i dati di turnover fortunatamente siamo ancora attestati nella low end del lato attrition quindi lato turnover ovviamente con popolazioni che cambiano all'interno della nostra azienda da un range dell'8-9% a un range dell'1% però insomma riusciamo a tenere le persone e questo è quello che ho trovato Luca quindi ho trovato un'azienda con dei numeri importantissimi ogni giorno 2 milioni e 7 di passeggeri che movimentiamo un'azienda fatta di 11.000 persone e soprattutto un'azienda e qua vado all'elemento più importante per noi oggi perché si inserisce qui quello che stiamo facendo con voi in una profonda trasformazione della strategia e di creazione anche di un nuovo futuro ovviamente Milano è Milano nessuno ci tocchi Milano ok da 90 anni anzi ormai quasi da 100 perché tra due anni facciamo il centenario su Milano serviamo con grandissimo onore tutti i cittadini in realtà però non basta più non basta più perché c'è una pressione sui costi che è normalmente ovviamente enorme e poi non basta più perché la nostra ambizione quella delle nostre persone è ben più che servire bene Milano come abbiamo sempre fatto quindi in cima alla nostra lista c'è comunque l'efficienza operativa che passa da Milano e viene esportata poi a Copenaghen a Salonico ma sempre di più la nostra strategia è quella di un'espansione di business quindi mettere a fattore tutte le nostre competenze sia quelle di operation and maintenance quindi andare a far girare metropolitane da altre parti stiamo competendo in Francia in modo molto serio e magari vedremo una TM a Parigi tra un po' chi può dirlo stiamo appunto allargando il nostro business aiutando Atac aiutando NM nello sviluppo del full electric tutto questo impermeato sul terzo pilastro che è quello della sostenibilità dove non mi dilungo sui temi più business related ma dove abbiamo deciso da quest'anno di inserire l'elemento people che ovviamente deve essere centrale in un'azienda con 11.000 persone che fa del servizio alle persone ovviamente e quindi nel mondo appunto sostenibilità abbiamo inserito il tema della cultura di noi ATM e vi faccio vedere la prossima slide solo per parole chiave quindi questo è qualcosa che abbiamo lanciato quest'anno ovviamente non è un gran che innovativa cioè diciamocelo quando ci parliamo con Luca diciamo wow facciamo le cose così di avanguardia come magari fa Gianfranco in Sace no purtroppo perché comunque noi abbiamo un footprint che è quello del servizio e delle operation fisiche però abbiamo deciso di iniziare a darci lato people alcune parole chiave e poi le vediamo come le traduciamo invece anche nel lavoro di Mercer quindi innanzitutto una parola che è la chiarezza e la trasparenza anche legata alla strategia voi magari non immaginate ma la strategia di ATM quella che vi ho fatto vedere ormai è a quattro anni non è di quest'anno ma in realtà quando nel mio primo giro ai depositi ho chiesto la conoscete zero ovviamente era ancora nella casa di cristallo che noi abbiamo bellissima in Foro Bonaparte quindi chiarezza e trasparenza il che vuol dire comunicazione inclusione ascolto e poi ovviamente anche valorizzazione di tutto quello che abbiamo non è rocket science immagino che le emissioni e il people strategy statement che la maggioranza di voi ha nella propria azienda sia probabilmente anche un pezzo più avanti però quello che abbiamo deciso di fare anche nel progetto con Mercer è di portarlo a terra in modo totalmente diverso infatti Roberta quello che mi ha stupito molto piacevolmente ma che ha inserito anche qualche elemento se vuoi un po' di complessità nella gestione del progetto è proprio come avete approcciato perché appunto all'interno di un grosso progetto di trasformazione Gian al vostro amministratore delegato forse un po' provocatoriamente ma un mese fa è uscito con un'intervista sul Corriere della Sera in cui dice il comune di Milano l'anno prossimo ci potrebbe mettere a gara forse è una provocazione visto che da cent'anni come dicevi però significa che l'azienda veramente si sta trasformando e le persone anche grazie al tuo arrivo sono veramente un asset fondamentale quindi la cosa che avete deciso è stata quella di un coinvolgimento amplissimo ovviamente commitment sulla parte alta dell'organizzazione non può essere altrimenti però anche un coinvolgimento diciamo dal basso insomma che qualche così simpatico problemino poi nella gestione dei progetti ci racconti un po' questa modalità guarda ti dico anche da dove siamo partiti io ho fatto il giro di tutti i depositi come tutti noi bravi HR quando si entra in una nuova azienda si va a conoscere la base e la cosa che mi ha stupito è che appunto nessuno sapeva della strategia nessuno e quando mi hanno incontrato hanno detto wow il direttore risorse umane non l'ho mai visto in tutta la mia storia di ATM e contate che l'età media aziendale dei miei colleghi è tra i 20 e i 22 anni quindi ne hanno visti di giri di direttore risorse umane allora un po' illuminata da questa facciata perché immaginate quando inizi a fare il tuo primo giro nelle prime settimane dici wow non ho mai visto il direttore risorse umane capisci immediatamente qual è un po' la realtà dell'azienda dall'altra parte però in questi giri Luca io ho capito che iniziando a parlare con le persone c'era una volontà di contribuire di sapere e anche di confrontarsi dal conducente al macchinista all'operaio quindi anche colleghi che non erano mai stati esposti a tematiche magari diverse rispetto che al traffico di Milano enorme enorme una fame incredibile ho avuto un'altra fortuna entrando sono entrata nel momento in cui c'è stato la nomina del nuovo CDA e quindi avere davanti un triennio di lavoro e quindi con Arrigo appunto con il mio amministratore delegato con la presidente abbiamo concordato un approccio che dice qualsiasi cosa nuova incluso il total reward che lanceremo deve passare da inclusione della base ascolto ovviamente e coinvolgimento di una massa critica diciamola così circa 400 manager dell'azienda che non soltanto devono sapere che le cose accadono ma devono farle sono caduti tutti dalla sedia perché se a malapena si sapeva che cosa fosse la strategia di ATM l'idea di dire guarda sono un quadro dell'azienda che lavora nel mondo del controllo di gestione piuttosto che sono un capodeposito e mi consulti per definire qual è il nuovo pacchetto di benefit che deve creare ATM va sicuro che è stato un elemento molto forte di cambiamento però è stata una decisione presa volontariamente perché abbiamo un senso di urgenza incredibile l'azienda è molto bella però ha uno zaino lo sai io sono montanara un po' come te e quindi faccio lo spiegavo così ai miei ragazzi noi abbiamo uno zaino che se dobbiamo correre veloce in montagna deve essere leggero essenziale ecco noi in ATM non abbiamo uno zaino leggero essenziale non so quale sia l'immaginario vostro io da cliente vedevo da fuori un'azienda zainone da 35 kg ok io ancora come appunto persone in ATM uno zainone da 35 litri pesante però all'interno ci sono sia pietre che diamanti è quello che dico sempre ai miei ragazzi quindi abbiamo deciso di valorizzare i diamanti il coinvolgimento perfetto quindi 400 quadri e impiegati che hanno come un obiettivo aiutare il team di leadership a creare nuovi strumenti tra cui anche il lavoro fatto con voi ma anche banalmente creare la nuova carta dei valori la stiamo facendo con loro fisicamente e poi dall'altro però anche iniziare a togliere qualche sasso e quindi dire bene tutti hanno la possibilità di parlare ma ciascuno si prende la propria responsabilità nel cambiamento perché non può essere soltanto l'amministratore delegato in una fase di cambiamento che spinge il caretto quindi una modalità che vede dall'alto coinvolgimento scontato una fascia manageriale attivamente coinvolta che quindi sta lavorando in gruppi di lavoro e dall'altro invece fisicamente sui depositi ascolto 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 chiedendo poi ai famosi conducenti che non passano in linea di esserci nei depositi e quindi con uno scontro anche qualche volta con i miei responsabili delle operation che dicono no la produttività devo assolutamente mettere le persone in linea per di più non ce ne sono abbastanza articolo di stamattina anche sul sole 24 ore quindi insomma una complessità importante ma che abbiamo deciso di indrezzare con il coinvolgimento assolutamente venendo al nostro progetto ti faccio l'ultima domanda che vedo già che qualcuno sendo le 13.02 a cali glicemici venendo al nostro progetto che se guardato assetticamente magari come dicevi non è un progetto altamente innovativo magari la metà delle aziende in questa sala possono aver fatto qualcosa di simile negli ultimi 2-3 anni però secondo me è stato fatto con una modalità nuova quello sì quindi con alcune caratteristiche sicuramente nuove dall'altra parte però in un contesto che invece e con delle modalità che per ATM sono abbastanza epocali anche mi citano sempre questa cosa quando vado lì alcune delle logiche retributive dei blue collar sono ancora regolate dal decreto regio del 1926 quindi insomma come dire sono passati quasi cent'anni non solo l'altra cosa interessante che mi hanno sempre raccontato di questa popolazione viaggiante in particolare gli autisti con un grandissimo attaccamento alla maglia ATM era il top del top ecco oggi questa cosa vacilla un po' perché tutto l'Amazon economy crea un ambito competitivo anche per queste figure che è molto complesso quindi i padroncini che vanno a consegnare i padroncini che vanno a consegnare i pacchi a tutta la la filiera della logistica diventa potenzialmente un mercato attrattivo per queste figure cosa che non era mai stato prima quindi ci racconti un po' questo progetto in queste complessità che ATM deve gestire e con modalità dal mio punto di vista abbastanza innovativa sì oltre al come come dicevi tu che è anche un impegno pazzesco quindi prima o poi mi chiamerete diciamo così a rendicontare su questo in realtà anche il cosa abbiamo cercato di renderlo particolarmente calato sulla nostra realtà vi dicevo 80% di blue collar quindi non posso fare una politica retributiva per i white non posso fare un total reward package nuovo soltanto sui white di conseguenza abbiamo deciso di guardare e di chiedere esattamente quali fossero le esigenze delle nostre persone anche delle persone di deposito di guida degli operai andando a guardare in modo molto attento anche la demografia delle nostre persone che è cambiata in modo incredibile se il mio pacchetto well being era fatto sulla famiglia in modo prioritario perché è così che uno pensa metto un sistema di welfare per la famiglia in realtà adesso all'interno della mia popolazione si è totalmente mosso lo spaccato quindi di quanti sono gli owner di famiglia e quanti sono invece gli owner di responsabilità per il supporto ai genitori anziani piuttosto che ai giovani single che ancora non pensano a fare nulla di famiglia quindi abbiamo preso il nostro pacchetto welfare e lo stiamo riguardando ovviamente ma poi la cosa importante sarà comunicarlo in modo estremamente trasparente e valorizzarlo e valorizzarlo di nuovo non per il dirigente insomma il total reward statement è qualcosa che esiste da una vita ma riuscire invece quello che stiamo facendo proprio con voi a valorizzarlo e poterlo comunicare in modo semplice a tutti in modo che comunque il mio collega Giovanni che guida la 973 sappia esattamente che lui non deve competere non deve guardare il padroncino di Amazon o magari l'altro conducente di autoguidovie ma in realtà è importante che sia con noi perché è un pacchetto di supporto per sé per la famiglia per il benessere per la continuità anche occupazionale noi stiamo facendo un investimento pazzesco anche su questo e provo a contarlo in modo semplice Luca che è la nostra grossissima grossissima sfida esatto esatto hai citato questo tema della comunicazione e anche questa mattina è venuto fuori comunicazione trasparenza le persone oggi vogliono sapere e se l'azienda non comunica anche su questi temi attenzione attraverso strumenti attraverso tecnologia le persone le informazioni oggi se le recuperano autonomamente su pacchetti retributivi su glassdoor ci sono n modalità quindi devo dire che questa comunque è una scelta coraggiosa perché forse ATM da qualche punto di vista si era un po' seduta su alcune tematiche era un po' rimasta indietro su alcuni temi ecco diciamo che tu hai sei fin troppo gentile diciamo che hai premuto molto sull'acceleratore e c'è stata una appunto una disruption fondamentale stiamo usando questo momento storico per creare nuovi strumenti necessari perché ATM era molto brava su alcune aree molto invece deficiente proprio mancante su altre ma poi stiamo usando la creazione proprio come parte del viaggio come dicevi tu sia per l'engagement ma anche per la formazione dei manager che si trovano a dover iniziare a parlare un linguaggio molto diverso lato people e poi appunto con grande coerenza con quello che noi continuiamo a dire sia all'interno che all'esterno vogliamo inclusività vogliamo ascolto ma vogliamo chiarezza vogliamo trasparenza siamo a questo punto allora io so che c'erano anche alcune domande però vista vista l'ora abbiamo deciso con Marco di lasciare tutti i Q&A come dire questo ampio networking launch che inizia adesso perché abbiamo un'ora e mezza di possibilità di ascolto di confronto di interagire con tutti gli speaker che ci sono stati fino adesso quindi io ringrazierei moltissimo Roberta per la sua testimonianza e per l'impegno in questo percorso formativo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti